Ora, cosa significa? Staccare. Adesso lo faccio guardare, lo avete fatto per superare lo stacco, lo avete fatto proprio per superare. Adesso invece lo dovete proprio staccare, lo dovete staccare da te, ok? Quindi, in mezzo, se lo fate come si vede, viene pure un passo, un passo, e però, dai, stacchiamoci da te. Staccare, verso l'alto, verso l'alto, verso l'alto, perfetto, così, andiamo. Verso l'alto, un passo, dai. Hai fatto una miscellanea di esercizi, un po' di... Via, così, bravo. Corri. Prego, prego. Ma no, passa pure. Via su, via su, via su. Andiamo, vai. Spingiamo, spingiamo, spingiamo. Andiamo. Guardate come vi state superando, ecco. E ricordate di quello che abbiamo fatto fuori. O quello che vi stavo detto. Ma lei ha visto necessariamente di saltare tutto quello stesso piede? Non posso, non posso. Allora, no. No, è fuori un passo stacco, quindi, siccome lo stacco, siccome il superamento dello stacco sta avvenendo con l'alto alto, ok? Non è necessariamente che staccano sempre lo stesso, le altre, le altre, ma non è questo lo che è il quale volevo fare un bacione. E' alto. Questo qui, un passo stacco. Però, ragazzi, partite dal re. Via. Eeeh. Guarda, non ci crederai. Non ci crederai. L'hai fatto meno di che cosa sto facendo, però... L'hai fatto meglio. L'hai fatto. Tutti l'avete fatto? Sì. Quanti di voi erano pensati a completare la spinta? Hanno pensato? Eh? Hanno pensato? A completare la spinta. Quanti di voi erano pensati a completare la spinta? Guarda. Nessuno. 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 Tu l'hai fatto. Lo sai per quale motivo? Perché non ce l'hai. Tu lo facevi perché altrimenti non ci sareste arrivata all'ostacolo, capito? E allora, automaticamente, ti è venuto a fare. Poi te lo vai a vedere, ragazzi. E vedi se è come il tuo video. Allora. Quindi, preoccupiamoci di completare la spinta. Se completiamo la spinta e avanziamo, vedete come riuscite a farci il passo. Andiamo. Completo. 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 Così. Bravo. Via. Completo la spinta. Completo la spinta. Completo la spinta. No. Ho niente di iniziare. E poi ti è iniziare a avanzare. Vai che non c'è ancora nessuno. Dai. Completo. Un pass. Completo. Così. Vieni. Via. Completo la spinta. Completo. Completo. Completo la spinta a terra. Basta. E poi dai. Dai. Voglio i piedi. Ma poi ti andiamo verso l'alto certo. Via su. Via su. Così. La spinta. Via. Conversa. Via. 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 Vieni, vai alzolato, vai alzolato, vai alzolato, su, così.